Ciao Liz, ti dico di venire in Italia perché è una figata, è detto in inglese it's cool, che mi piace tanto da dire, perché poi comunque come tutti i popoli hanno tantissime cose belle da farti conoscere, a me in particolare piace molto il Duomo che sarà pure, è il simbolo della nostra città, poi io mi sono spesso e volte seduta e ho scattato molte foto. Ciao Liz, ti aspetto, va bene?